Nella vita di Lotti Schnauzer ci fu anche una parentesi cinematografica, se non erro. Esatto, ci sto arrivando, cara. Sono impaziente. Dunque, nel 1939 Lotti era già una cantante di successo, tanto che il cinema doveva spalancarle le porte, vero? Come ogni buona cantante, e vedi, musica leggera, vero? Lotti univa allo splendore della voce, anche un dono spiccato, vero? Per la recitazione, insomma. La sequenza che vedrete è tratta dal film L'Angelo della Nona, sì, sì, prodotto nel 1939, dove la vedrete al fianco, vero, di Billy Wurstel, l'attore dalla maschera incisiva. Prego, prego. Prego, prego, prego. Prego, prego. L Importante è vero,енным son! Gef., come capacity! Cupac, vai? Sì, gioia! Sì. Mauro, noi con la Bankersi. Ah, grazie! Stoi! Zonam! Spaten! Zoi! Vom Kölnerin! Urr! R! Jajaja… Eiche pollues a viktigt! Eiche pollies auleràben! Eiche pollies auleràben! Eiche pollies a povo! Eiche pollies a корабleàb! Eiche pollies a carr увелич! Eiche pollies a pickles e majorny! A látima… Vom Kölny! Ma guardate questo, ehi voi, volete anche il mio grambiure per scriverci la musica? Non capisce niente. Non capisci niente. Deve essere francese. Io non sento, sono sordo. E' sordo. Ma se è sordo, come fa a scrivere l'amore? Guardate qua, guardate, è roba da matti. State a sentire. Tu, 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 tu. Senti! Cani! Signore, ma questa musica è meravigliosa. Come vi chiamate, signore? Ludwig von Beethoven. Il vostro è un nome che non dimenticherò, signore. E' un angelo.